Questa è la pulizia di una specchiera dove c'è lo sporco da tanti 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 anni e con l'acqua e colla e un pochetto di spirito puliamo tutto lo sporco anche perché la doratura non è a oro zecchino ma è a oro metallo. Ora piano 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 si porta via quel sporco degli anni e si fa tornare la specchiera alla sua originalità di com'era quando è stata dorata con più ovviamente con adesso ha più fascino perché gli anni eccoci qua ecco qua e piano 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 dobbiamo proseguire fino a che la specchiera diventa completamente pulita per poi essere stuccato nelle parti nelle parti mancanti che sono queste qui ridorata il pezzettino e poi viene rimontato tutto quanto per essere adoperato come lumiera applica insomma ecco su un bel palazzo veneziano la specchiera così fa veramente la sua bella figura e noi artigiani siamo qui per restaurare tutti i palazzi di Venezia che sarebbe la soddisfazione più bella del mondo.